Primo snodo cruciale, primo dentro fuori della serie, primo duello che potrebbe valere lo scudetto, gara 2 di finale della serie A1 femminile, tutto si sposta in Campania, a Salerno dove la IOMI padrona di casa riceve l'ACI Lifestyle Erice, è iniziata, dunque gara 2 di finale scudetto della serie A1 femminile. Gran gol di Ilaria D'Ana Costa, senza pressione, il tiro dalla distanza, la rete di pregevole fattura di Occoo. La palla larga intanto per Occoo, che trova spazio per inturearsi e colpire sul secondo palo, nuovamente D'Ana Costa, lo scarico largo, buono il ritmo del passaggio, è il gol di Lauretti Matos, palla recuperata da Salerno, Balciova può correre, con il piene destro, un gol, e proprio nel finale di tempo, Salerno sta prendendo coraggio. La pinta di Balciova, che crea la superiorità numerica, molto bene, poi non staglia, Giulia Rosso Mando, va a correre Balciova, ma Gorbaziova con una grande azione, poi una grande lettura, non solo difensiva, ma anche sulla corretta Balciova, trova lo scavalcamento, Balciova lo scarico, raccoglie con una mano D'Ana Costa, che trova il secondo palo, libero. Tentativo di passaggio, rischiosissimo, attenzione adesso, perché c'è la porta vuota, rientra in qualche modo, Pereira, attenzione a Pugliara, in tiro, e il gol del Pari, il gol del Pari, su questo attacco, sbagliato da Salerno, e poi Erice, il tentativo e il gol, di Ramona Manojlovic, l'intuizione, si rifà dopo l'errore, pesantissimo, dell'azione precedente, il tiro di Storoschuk, Tara Pereira, che la tiene lì, e non c'è più tempo adesso, non c'è più tempo, finisce 24-23, si va a gara 3, serviranno altri 60 minuti, servirà un'altra partita, per assegnare, il 53esimo scudetto, della Serie 1 femminile, Salerno, ha battuto Erice, 24-23 al palo Palumbo.